Siamo quasi nel primo tempo di Torino-Roma, cosa ci dici di questa prestazione? Scaracamente non dovrei dire niente, il primo tempo è stato un po' primo tempo, per adesso abbiamo giocato bene, per adesso mi sembra che la partita sia in controllo, per adesso potremmo essere un po' più concreti e realizzare quello che abbiamo fatto, ora vediamo il secondo, il segnante del calcio moderno è sempre un'altra partita. Speriamo che sia la stessa. In generale, come hai detto in questa stagione del pionino? Tuva disapuata e attaccante? Sì, di avere un attaccante così e anche oggi è un campo diverso, anche una persona come Tameschi, che è un super appartone che ci è mancato un pochino l'anno scorso. Penso che possa essere una bella stagione, poi noi tiposi del Toro, come dire, speriamo sempre nella gioia più assoluta. Però per noi, alla fine, la gioia è veramente di vedere una squadra che è lontra, quindi se potessi vedere una squadra, per esempio, un po' per esempio, un po' per esempio, un po' per esempio, un po' per esempio. E' lo spirito che dà Jürich con l'allenatore. E' lo spirito di Jürich e ci auguriamo che sia anche lo spirito della città e della tibuseria. Sogno Europa ci crede. Cosa ci crede sempre? No, vediamo la fine. Grazie. Grazie, grazie.